Cristo annuncia agli apostoli che uno di loro presto lo tradirà. Un'aria di mistero pervade la scena e l'unica fonte di luce è una finestra che lascia in penombra lo sfondo, dando rilievo alle figure in un clima di tensione drammatica. Mentre Cristo benedice il pane, gli apostoli esprimono senza parole i loro sentimenti. I tessuti riccamente colorati e le pieghe regolari della tovaglia accompagnano lo sguardo dell'osservatore lungo il quadro. Champagne non usava effetti vistosi come i contemporanei pittori barocchi italiani, ma le sobri emozioni trasmesse dai suoi dipinti sono intense e forti. Di origine fiamminga ma naturalizzato francese, Champagne operò come ritrattista alla corte di Luigi XIII. Una delle sue opere più conosciute è un grande austero studio del cardinale Richelieu.